Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti una volta di più. Eccoci qua in compagnia dei miei due Pard, Nicola Bizzi e Matt Martini. Fate ciao con la manina. Tu fai il solito valuto militare, vai. Io ho il solito lunga vita e prosperità. Buonasera a tutti. Abbiamo stasera un ospite, abbiamo il nostro contenuto premium. Vi presento Marco Maculotti che stasera ci delizierà con delle cosette parecchie interessanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Interverrà. Quindi io non mi dilungo molto anche perché c'erano alcune cosette che volevo buttare lì sul piatto, cose che ho sentito, ma aspetto di verificarle meglio perché vi lancio lì un suggerimento. Cose interessanti pare, pare, stiano succedendo in quel di Washington in queste ore. Ma non mi, vedo che Nic fa, annuisce, vuol dire che anche lui ha sentito questa cosa apparentemente starebbe succedendo a Washington e soprattutto un po' sotto Washington pare. Ma comunque, allora, caro Matt, io ti cedo, ti apro il microfono così tu puoi introdurre il nostro ospite e partiamo al galoppo. Vai, Matt. Sì, eccoci. Allora, questa puntata noi parleremo di serie televisive e in particolare di alcune serie televisive che hanno delle caratteristiche un po' particolari. E ne parliamo con Marco Marculotti, che è il nostro amico. Lui ha un blog molto, molto seguito. La sua pagina Facebook è molto seguita, si chiama Axis Mundi. Questo è particolare perché normalmente, e questo è il suo libro che presentiamo, che si chiama Carcosa Svelata. E adesso vi dirò. Marco si occupa di temi nel suo blog che vanno dalle religioni antiche, tradizioni spirituali occidentali, orientali, di antropologia. e si occupa anche di letteratura fantastica e di temi che hanno a che fare con questi contenuti presenti anche nelle serie televisive, in particolare. C'è qualche problema con il video? No, perché? Qual è il video? Credo che non ci vediamo più. Non mi vedo. Allora, sì, aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo così. C'è un piccolo problema. No, non c'è nessun problema in realtà. Ok, bene, ok, sì. Stavo introducendo Marco. Lui ha un blog su cui ho avuto anche io il piacere di scrivere un paio di articoli qualche anno fa. I temi appunto spaziano sino al tema della letteratura fantastica e della presenza di temi che possono essere catalogati come esoterismo nel cinema, nelle serie televisive, nella letteratura. Marco ha scritto anche su riviste come Studi Lovecraftiani, Corriere Metapolitico, Suartos, Atrium, Dimensione Cosmica. Quindi, io leggo sempre tutto quello che pubblica sul suo blog, su Axis Mundi. È sempre molto preparato e molto puntuale. Ha scritto di recente questo libro che si chiama Carcosa svelata, con la Mimesis, casa editrice molto votata. E ci parla di True Detective, che è una serie americana. Marco, di che anno è? La prima stagione, sì, dal 2014 è la prima stagione, su cui stasera parleremo appunto. Che è ambientata in Louisiana e che parla, diciamo così, di omicidi rituali. Ma io non voglio dire altro perché ho detto anche troppo nella presentazione e passo la parola subito al nostro ospite. Ok, grazie a tutti, grazie per l'invito Matt, grazie a voi altri per avermi invitato, grazie a tutti quelli che stanno seguendo. Iniziamo a presentare un minimo il libro che presentiamo stasera, cioè questo Carcosa svelata. Noi stasera, in questa trasmissione, parleremo solamente della prima parte del libro. Il libro è formato… mi sentite? Sì. Ok, il libro è formato da tre parti. La prima di cui parleremo stasera, che appunto analizza gli omicidi rituali che noi vediamo nella prima stagione di True Detective, di cui poi forniremo un minimo riassunto per far capire un attimo anche a chi non l'avesse vista di cosa trattiamo. Nella prima parte del libro si parla appunto degli omicidi rituali della serie TV, messi in rapporto con… Questo è il nuovo canale YouTube Axis Mundi, appena aperto. Vi invito ad iscrivervi se volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette, sui nostri video che pubblicheremo. Ecco, questa è la prima immagine della serie TV, poi le mostreremo man mano. Comunque… Ma è che vi sto rimandando le immagini che prima per qualche motivo non si vedevano, quindi questo è il libro, questo è il libro sul sito di Mimesis. Questo è appunto il tuo sito web e questo è il canale YouTube. È il nuovo canale YouTube. Sì, questo è il nuovo canale YouTube Axis Mundi. Perfetto, perfetto. Dimmi tu quando io devo mandare le immagini, d'accordo? Sì, 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 poi quando inizio a parlare proprio nel dettaglio ti chiedo di mandare le prime slide. Perfetto, perché stavo già cominciando a tremare perché non le vedevo più comparire, non capivo perché, comunque ho risolto. Ok, perfetto. Dunque, dicevo, in questa sede stasera parleremo della prima parte del libro, che analizza gli omicidi rituali che avvengono appunto nella prima stagione di True Detective con un occhio anche al mondo reale, quindi alla cronaca nera, a partire grossomodo dagli anni Sessanta in poi, e poi quindi parleremo sia di queste sette parareligiose americane che hanno interessato anche Hollywood, quindi attori e registi e che possano legare queste informazioni anche ai recenti scandali usciti tramite Wikileaks, scandalo di Epstein e via dicendo. E parleremo anche in un'ottica simbolista di questi rituali, che poi vedremo in dettaglio facendo appunto dei rimandi al mondo reale o comunque alla realtà alternativa. Le altre parti del libro, che invece stasera non tratteremo, si basano, la seconda parte, sulle influenze della letteratura del fantastico di fine ottocento, inizio novecento, nella serie tv di True Detective, quindi vale a dire i riferimenti di Carcose e del Re in Giallo, che derivano dai racconti dei romanzi di Ambrose Beers e di Robert Chambers, e poi diverse citazioni a Lovecraft, all'opera di Lovecraft e anche alcuni rimandi possiamo definire teosofici sulla natura del tempo e via dicendo, molto riassunto perché non dobbiamo parlare di questo stasera. Poi la terza parte del libro invece si basa su una visione più filosofica che è incentrata su Thomas Ligotti, un autore della cospirazione contro la razza umana, che è il saggio che ha ispirato la prima saggione di True Detective per esplicita ammissione di Nick Pizzolato, che appunto è il regista. Ma iniziamo appunto a parlare di cosa succede nella prima stagione di True Detective, così possiamo iniziare a inquadrare i rituali, ecco bene, iniziamo a mandare le immagini, i rituali della set della palude, così si chiama, della Louisiana di True Detective. Innanzitutto c'è subito da dire che il nome di set della palude è una citazione appunto di Lovecraft, il nome deriva dalla setta che ne richiamo Dick Tulu, che è forse il racconto più noto di Lovecraft, compie questi rituali per risvegliare a nuova vita questa divinità terrifica che è appunto Tulu, che dorme in una condizione... Scusate che sento un rimando al microfono, forse l'avete acceso? No. Potete controllare? Ok. Va bene. Come ne richiamo Dick Tulu, questa set della palude compie dei rituali di sangue e sacrifici umani per portare al risveglio di questa divinità terrifica che è appunto il grande sacerdote Tulu. Nella serie tv di Nick Pizzolato, True Detective, noi vediamo che questa omonima set della palude compie questi rituali per portare al risveglio il cosiddetto rain giallo, che è questa divinità loro che viene rappresentata con queste corna di cervo ed è stilizzata da questa spirale che noi vediamo già adesso in questa locandina della serie tv. Questa spirale è un simbolo molto particolare per varie ragioni esoteriche, simbolistiche, ma anche in un'altra ottica perché... Adesso vedi un attimo Tom se riesci a trovare... Ecco, quello dopo, prova a vedere. Quello dell'FBI esattamente. come l'FBI negli ultimi anni, in realtà, questo è un comunicato dell'FBI che è molto successivo rispetto alla prima stagione di True Detective. Di conseguenza, Nick Pizzolato non poteva conoscere questo documento al tempo. Noi vediamo che in questo comunicato dell'FBI ufficiale il simbolo della spirale... Scusa, puoi ritornare a quella... Scusa, scusa, scusa. Ho fatto un piccolo... Arrivo subito. Scusa, un attimo. Questa? Quella dopo. Quella dell'FBI. Ecco, questa qua, esatto. Noi vediamo che in questo comunicato ufficiale dell'FBI il simbolo della palude, della spirale, cioè i due simboli qua, la spirale nel triangolo e questa spirale un po' più, diciamo, arrotondata, questo è il simbolo esattamente della sette della palude di True Detective. E nella serie TV di Pizzolato questo simbolo spiraliforme viene tatuato a mo' di marchio sulla pelle dei singoli membri della sette della palude e che adorano questo fantomatico re in giallo, no? nei cui confronti fanno questi rituali di sangue e sacrificio umani per ridestare la nuova vita. E questo simbolo viene anche posto sulle carni delle vittime sacrificali. Infatti ritorna pure indietro la prima immagine che hai fatto vedere. Eccola qua. Questo è il cadavere di Dora Lane, cioè il primo cadavere che viene trovato dai due detective nella prima scena della prima puntata del serial. e vediamo appunto che subito da questa inquadratura si vede la spirale sulla schiena della vittima. E poi queste corna cervine, che adesso anticipiamo un minimo, magari ne parleremo un po' dopo, le corna cervine, fin dall'antichità, fino addirittura dai rituali connesse ai Veda dell'antica India, sono sempre connessi in quest'ottica di rigenerazione. Quindi adesso riassumendo un attimo, mettiamola giù in questa maniera. Nella serie tv è molto importante la tematica del tempo e il re in giallo si dimostra essere infine un re del tempo e quindi della morte e della rinascita, della rigenerazione che i membri della setta cercano appunto tramite questi sacrifici di sangue umani. Questa immagine invece che stai facendo vedere, scusa quella di prima, questa immagine qui, a conferma di quanto abbiamo detto, questo è uno screenshot della terza stagione di True Detective, che è di qualche anno dopo, mi sembra del 2017 o 2018, quindi qui esisteva già il comunicato ufficiale dell'FBI e quindi Pizzolato adesso sì che poteva mostrarlo, vedete che è il medesimo, ci sono gli stessi simboli. Nella terza stagione di True Detective si vede appunto il detective che indagando su questo simbolo arriva a questo sito in cui l'FBI spiega che questa spirale viene utilizzata dai membri di questa setta parareligiosa, diciamo così, o parasatanica, che dir si voglia, per individuare le proprie vittime che sono giovani ragazze e bambini. Anche nella prima stagione di True Detective c'è questa cosa che molte delle vittime della setta della parude sono bambini. Qui si potrebbe fare un discorso a parte, rinunciandoci alla realtà effettiva, perché ci sono diversi detective che nella vita vera, per esempio noi possiamo nominare Ted Gunterson, un ex capo dell'FBI che a partire dagli anni Ottanta ha fatto molte ricerche su queste sette nascoste nell'America profonda, nell'America nascosta. Faccia l'anima sua. Faccia l'anima sua, sì, perché è morto nel 2011 esattamente. E lui è stato uno dei primi a parlare di questi argomenti, molto prima di True Detective, molto prima degli scandali usciti recentemente con Wikileaks, che dir si voglia. Ad ogni modo, noi vediamo che quando Nick Pizzolato ha scelto la spirale, proprio la spirale scritta in un triangolo, come simbolo della setta della parude nella prima stagione del 2014, ancora questo comunicato dell'FBI era privato, girava solo in mezzo ai membri dell'FBI, di conseguenza o lui aveva un insider e quindi ha basato alcune suggestioni della serie TV su queste notizie privilegiate, possiamo dire così. A questo riguardo mi viene in mente, visto che nei commenti già qualcuno ha scritto, spero che parliate un po' anche di X-Files, c'è da dire che anche X-Files negli anni 90 fece qualcosa di simile, nel senso che in varie interviste Chris Carter, che nel regista, il creatore, ammise di essersi ispirato ad alcuni degli elementi, delle suggestioni più cospirazioniste, diciamo così, della serie, grazie a delle conoscenze personali che lui aveva nell'FBI. Adesso senza andare troppo in profondità, ricorderemo che anche in X-Files si parla di una specie di cabala, che è una specie di governo ombra all'interno del governo ombra, del governo reale, e che c'è questo comitato appunto che, per farla molto semplice, svende i propri figli e per questo progetto misterioso, questo progetto che questo governo ombra tiene nascosto all'umanità. Peraltro Chris Carter è stato anche il regista e il creatore di un'altra serie TV, che ha fatto meno successo di X-Files, però è altrettanto esoterica, se non addirittura di più. Adesso ti chiedo di vedere se trovi l'immagine che ti ho messo, si chiama Millennium. Ah, quella l'ho messa in fondo, mi hai detto di metterla in fondo, ma... Sì, va bene, allora la faremo vedere alla fine eventualmente. La facciamo vedere alla fine, tu mi hai detto di metterla... Comunque, quello che è importante di quest'altra TV, che si chiama Millennium, è che vi è sempre questa idea di un governo ombra alle spalle del governo che tutti vedono, addirittura si parla di un'epidemia che si potrà superare solo con una sorta di vaccino che viene dato solo ad alcune persone che sono appunto interne a questo comitato ombra. Questo per dire che è una serie TV del 97, Millennium. Ora, se vogliamo un attimo approfondire su Chris Carter, c'è anche da dire che un'altra serie TV che lui fece, che è quella, bravissimo, questo è il simbolo di Millennium, come dall'Uroboro, che è un simbolo che appunto è simbolicamente connesso al tempo ciclico, che ovviamente è una delle tematiche principi anche di True Detective, il tempo è un cerchio piatto, è una delle frasi che ritorna in tutta la serie, c'è questa maledizione, il tempo viene visto come un tempo che ritorna sempre fagocitando poi tutte le esperienze individuali. Tra l'altro, scusa, ti interrompo un secondo, anche per così, per giostrarci. Dai dai, prego, prego. Volevo tornare un attimino sulla figura che hai citato prima, che era una persona che io ammiravo molto, parlo di Ted Ganderson, che non solo si è occupato di queste tematiche, ma si è occupato di tante altre tematiche, sempre che, soprattutto adesso, catalogate come complottista o cose del genere. Per esempio, Ted Ganderson, ricordo un bellissimo video che fece parlando delle scie chimiche, e stiamo parlando di un membro importante, di un agente senior dell'FBI. Lui per primo metteva in guardia, attraverso questo video, dal fatto che stavano avvelenando i cieli con queste erovazioni, ma non solo questo, si è occupato veramente di tante tematiche e quando è scomparso, diciamo, io ci sono rimasto, come penso, tutti quelli che lo seguivano e seguivano le denunce che lui puntualmente faceva, ci siamo rimasti molto male. Comunque, scusa questa interruzione, ma ci tenevo così a onorare la memoria di una persona veramente importante, almeno per me. Vai pure, scusa se ti ho interrompo. Appunto, visto che hai rinominato Ted Ganderson, ripartiamo da qui, nel senso che Nick Pizzolatto, per mettere in scena questi delitti di questa setta segreta in True Detective, si rifà anche dei fatti di cronaca, che sono avvenuti a partire dagli anni Ottanta, sono quelli che hanno raggiunto la cronaca, insomma, che sono arrivate alle orecchie di molte persone. Questi delitti sono stati riportati dalla stampa sotto una denominazione di satanic ritual abuses, cioè i delitti, abusi rituali satanici. Questa definizione è sempre stata un po' criticata da una grossa parte dell'opinione pubblica dei mass media americani, al punto che per molti di questi alla fine non si sono verificati questi casi e sarebbe stata tutta una allucinazione collettiva di una parte dei mass media e dei bambini che denunciavano questi fatti. Ora, la cosa che è importante da mettere in risalto in questa sede è che in tutti questi casi, l'ultimo dei quali è il cosiddetto caso di Osanna Church, che è avvenuto nel 2005 in Louisiana e si è verificato all'interno di una scuola che ricorda le scuole che nella serie TV sono fondate e organizzate dal reverendo Taptol. Dunque, noi vediamo che sia nella serie TV che nella cronaca reale c'è una responsabilità di alcuni gruppi della Chiesa, dei prelati, dentro questi omicidi rituali. Quindi, le vittime, i bambini, spesso vengono selezionati all'interno di questi circuiti. Dunque, si parla di bambini orfani, di bambini abbandonati, svantaggiati in qualche senso. E qui si può fare un'altra menzione alla vita reale, alla cronaca reale. Forse voi conoscerete di nome quel personaggio che si chiama Jimmy Saville. È un personaggio che è morto qualche anno fa. È un personaggio famosissimo nella televisione inglese. Lavorava per la BBC. A BBC. È stato in televisione per 30-40 anni e solo quando è morto in realtà si è iniziato a parlare di quello che lui faceva. Ora, quest'uomo aveva fondato una serie di scuole e di luoghi per ospitare dei bambini orfani e si è scoperto che centinaia di questi bambini sono stati ripetutamente violentati da questa persona, che addirittura era stato insignito dal titolo di baronetto dalla regina d'Inghilterra, la regina Elisabetta. Sì, ma quel che è peggio, quel che è peggio, quel che è peggio è che mi risulta che sia stato beccato ad andare addirittura negli ospedali dove aveva evidentemente accesso. Sì, perché erano fondati da lui questi ospedali, questi orfanatropi. Lui stesso li aveva fondati e lui si mostrava come un filantropo, capito? Mostrava le foto con tutti questi bambini e poi una volta che è morto, qualche anno fa in realtà, tutti hanno iniziato a parlare, lo sapevano tutti quello che succedeva in quei luoghi, capito? E appunto il fatto che sia stato anche insignito dal titolo di baronetto dalla regina d'Inghilterra è bizzarro ma non troppo perché ci sono stati altri casi come il caso de Fru in Belgio in cui noi vediamo che questi personaggi che ovviamente i mass media presentano come casi isolati, come pazzi fuori di testa, aveva una rubrica in cui erano signati dei numeri di telefono dei regali di Belgio, di Olanda, d'Inghilterra. Dunque insomma, se nella serie tv di True Detective di Nick Pizzolato noi vediamo che i alti gradi di responsabilità della sette sono delle chiese cattoliche C'è un rimando, mi stai dovete togliere un microfono. Sono tutti spenti tranne il mio e il tuo. Ok, adesso si sente bene. Dicevo che nella serie tv comunque viene detta questa cosa più riprese. Viene fatto capire, viene anche detto esplicitamente che gli alti livelli della sette della palude di True Detective sono formati da il reverendo Tattol e dal governatore Tattol che sono due cugini quindi il potere temporale e il potere religioso appunto. A dimostrazione questa è forse una spia che Pizzolato vuole far passare perché in realtà se uno non sta bene attento nell'ultima puntata della serie uccidono questo Childress che è il serial killer che viene individuato come massimo colpevole e molti potrebbero pensare che finisce lì la cosa che era solo questo personaggio che faceva i rituali di sangue e invece no perché in tutta la serie viene detto a più riprese che tutto parte dalle scuole cattoliche di Tattol del reverendo Tattol e poi viene detto che nella sua nei suoi effetti personali una volta che questi si suicida vengono trovati alla cassa porta addirittura vengono trovati questi filmati mi sentite scusate io ho dei problemi di rimando con l'audio io ti sento ok ti sentiamo più o meno tutti speriamo che ci sentiamo fuori da qui allora continuiamo iniziamo a parlare appunto di questi rituali della sette della palude che emergono innanzitutto abbiamo visto già nel simbolismo il simbolismo del cervo e della spirale che abbiamo visto sul cadavere di Dora Lange che viene trovata se lo puoi far rivedere di nuovo la prima foto dello slideshow questo è il primo cadavere che viene ritrovato che esibisce questi particolari simbolici delle corna del cervo e della spirale che appunto è il simbolo di questa setta ora nella serie tv viene detto che questo luogo dove vengono compiuti gli omicidi rituali è un posto citazione un posto a sud dove uomini ricchi si trovano per adorare il demonio e per compiere dei rituali umani dei sacrifici umani ora ma chi sa quale potrebbe essere andando a indagare la storia diciamo così alternativa degli ultimi dell'ultimo secolo almeno in America bravissimo c'è effettivamente un post è un posto in al confine col Messico perché è in California quindi anche se gli americani dicono che si trova sulla costa per noi è il sud al confine col Messico e si chiama Bohemian Grove qua iniziamo a vedere le foto questa la facciamo vedere un attimo rimani subito un attimo su quell'altra questo è un posto che venne che venne acquistato nel 1880 grosso modo da un club di Bohemian faceva appunto chiamare Bohemian Club dopo qualche decennio questa proprietà è stata acquisita invece da un gruppo di investitori che si tratta di banchieri politici militari di alto livello e si iniziarono a fare questi rituali che vanno avanti fino al giorno d'oggi questa qua appunto si chiama la cremazione di care della preoccupazione è questo rituale molto folclorico che fanno ogni anno a luglio in cui viene sacrificato e poi dato alle fiamme questo fantoccio che sarebbe a rappresentare la preoccupazione la cremation di care viene chiamato questo rituale ora quello che è importante però da sottolineare è che questo bosco non è un luogo qualunque ma è un luogo magneticamente ricco di energia rituale per così dire perché prima che questo bosco venisse acquisito dal Bohemian Club per secoli è stato denominato dagli indiani dai nativi americani che vivevano prima in questo territorio gli indiani pomo veniva denominato la via della morte e in questo bosco su questa via dove adesso i potenti dell'America fanno questi rituali un po' bizzarri un po' pagani un tempo gli indiani facevano questi questi sacrifici umani fare questi rituali che li avrebbero connessi con il mondo con il mondo dei morti con l'aldilà questa è un'immagine del Bohemian Club queste sono foto degli anni 20 e 30 si parla dei primi dei primi rituali fotografati sempre nel mese di luglio avvengono qui il corpo di Kerr questo fantoccio viene trasportato su questa barca sotto questa statua alta 20 metri a forma di gufo che viene chiamato Old Shrine e che alcuni chiamano Moloch in correlazione con il dio Cananeo un'elefante però taurine a cui venivano sacrificati i figli in olocausto praticamente il nome di questa di questa statua dunque per gli adepti sarebbe Moloch e questo ha fatto anche sospettare alcuni autori diciamo così di saggistica alternativa che sostengono che oltre a dei rituali pagani in questo bosco di sequoie si facciano anche qualcosa di più reale cioè di rituali di sangue veri e propri queste sono altre foto d'epoca vediamo come tutto appare quasi come una rappresentazione teatrale se noi adesso non so quanti di quelli che seguono conosceranno il re in giallo di Chambers da cui è tratto le menzioni di True Detective del re in giallo e di Carcosa ma anche se leggiamo i racconti di Chambers vediamo che c'è una rappresentazione della vita umana quasi come rappresentazione teatrale e questo re in giallo sarebbe questa divinità che governa sui cicli del tempo e sull'eterno ritorno che è come se bloccasse tutti i vari personaggi in questa dimensione per fagocitarne le energie da ogni personaggio questa è la statua del Moloch durante un rituale questa è una foto abbastanza recente credo che sia dei primi anni 2000 vediamo proprio l'aspetto molto paganeggiante del rituale che viene fatto in questa sede e quello che c'è anche da sottolineare in questo momento è che il gufo ritorna anche in Twin Peaks che è un'altra serie che negli anni 90 ha fatto passare determinati messaggi sia esoterici che un pochino cospirazionisti per esempio ricordiamo che in Twin Peaks il gufo viene innanzitutto menzionato in una frase criptica di un personaggio del gigante che avrà visto Twin Peaks conoscerà che dice i gufi non sono quello che sembrano e quindi si sembra collegare questi gufi in Twin Peaks con queste entità oscure che dalla loggia nera che è questo mondo sotterraneo bravissimo questo è il simbolo che in Twin Peaks viene trovato sulla grotta dei gufi così viene chiamata e questo simbolo tra l'altro ricorda anche le corna del cervo o del toro di Molo comunque nonostante che la grotta sia la grotta dei gufi qua noi vediamo infatti al centro è una grotta e intorno ci sono i due picchi di Twin Peaks i due montagne però l'immagine vista così sembra una testa con due corna e un'altra cosa importante da dire è che comunque questo gufo in Twin Peaks viene come se fosse una spia come il cervo in Twin Detective il gufo in Twin Peaks è la spia dell'arrivo delle entità della loggia nera quindi delle entità oscure non umane che appunto si nutrono di energia umana della cosiddetta garbomanzia che appunto suggono dai personaggi umani che ci entrano volontariamente o non volontariamente in contatto e il gufo quindi che è legato sia a Moloch sia nel Moloch nel senso il Moloch del Bohemian Grove quella statua enorme sia a Saturno il gufo è un'epifania mezzomorfa del pianeta Saturno e Saturno è sempre stato visto in correlazione con il tempo con il tempo divoratore cioè con un tempo ciclico che divora che fagocita tutte le anime che entrano poi a far parte della vita e poi ritornano al piano di non manifestazione e così via dicendo quindi il gufo e il cervo pure che in Twin Detective è il simbolo di morte e di rinascita sono i due simboli che in queste due serie tv vengono portati a significare appunto questi rituali e questo accesso all'altro mondo tra l'altro anche in Twin Peaks si dice specificamente che questa grotta era sacra agli indiani d'America anche in questo caso e questi simboli sono stati dipinti dagli indiani d'America come se fosse una specie di mappa per arrivare a questo al di là a questo altro mondo e in questo noi possiamo andare con la mente un attimo al libro dei morti egizio per così dire in cui ci vengono fornite una serie di geroglifici che ci mostrano diverse vie da prendere nell'aldilà per andare in determinati mondi altri per riuscire a raggiungere queste dimensioni al di là dello spazio e del tempo che sembra essere anche la carcosa di True Detective perché questo è un altro punto molto importante da sottolineare in alcune battute della serie sembra quasi che la carcosa della serie tv sia da ridurre semplicemente al luogo dove vive uno dei membri della set cioè Childress questo luogo insomma labirintico in cui lui compie alcuni rapimenti e alcune uccisioni da solo non quelle quella set non quelle rituali tutti insieme invece no la carcosa di True Detective riprendendo dalla carcosa di Chambers dei racconti del re in giallo appare essere come un mondo non umano un mondo extra 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 galattico per esempio nei racconti di Chambers ma ancora prima nell'abitante di Carcosa di Ambrose Birsk di qualche anno prima si dice che da Carcosa dove abita il re giallo in questa condizione di sonno di vita nella morte si vedono Aldebaran e le Iadi nella costellazione del Toro scusa Marco ti devo interrompere perché abbiamo il quinto ospite è arrivato Socrate quindi dato che devi sapere che c'è una marea di fan che non vedono tutti chiedono Socrate visto che è arrivato ciao Socrate scusa e dovevo per forza interromperti ciao Socrate bene spero di non aver interrotto anche la tua ragionamento vai pure avanti allora di cosa stavamo parlando? di cosa stavamo parlando? parlavamo della costellazione delle Iadi io pensavo che mi avesse interrotto per fare un appunto perché qua ci sono vari appunti esoterici da fare su Aldebaran e le Iadi e sul simbolismo del Toro perché in realtà queste costellazioni sono diventate note nel mondo occultista perché la cosiddetta Lodge Avril negli anni di inizio novecento diceva di essere in contatto con delle entità di luce queste entità divine che provenivano dal Aldebaran appunto dalla costellazione delle Iadi ora la cosa curiosa è che i racconti di Ambrose Beers e di Chambers vengono prima della Lodge d'Alvril e già subito si lega Carcose del re in giallo alla costellazione del Toro alle Iadi e in particolar modo ad Aldebaran che è l'occhio del Toro questa stella rossa enorme molto più grande del sole per dire quindi è bizzarro come la letteratura del fantastico abbia anticipato determinate suggestioni poi occultistiche esoteriche che sono vengono e che sono molti decenni dopo e true detective anche se non vengono nominate Aldebaran e le Iadi viene però nominata un'altra locuzione che compare nei racconti di Chambers ovvero le stelle nere di Carcosa queste stelle che non hanno una luminosità sembra quasi che si parli di un cielo morente con le stelle che non hanno più luce proprie quindi stanno tutte per morire come un'immagine di devastazione cosmica che ricorda un altro romanzo storico di quell'epoca cioè La casa sull'abisso di William Hope Hudson c'è questa suggestione del sole che si spegne delle stelle che si spengono e quello secondo i membri della sette della palude in true detective sarà il momento in cui il re in giallo tornerà a manifestarsi alla coscienza umana di conseguenza i rituali della sette in true detective sono portati avanti proprio per come quelli della sette della palude del richiamo di Tulu di Lovecraft alla fine per porre fine quasi alla storia del cosmo per far arrivare a questo punto finale in cui il cosmo si distrugge divora se stesso assorbe tutto se stesso e questo re giallo si risveglia improvvisamente questo re giallo noi nel libro appunto che abbiamo mostrato prima carcosa sveata lo colleghiamo a quelle figure staturnine che erano considerati gli dei dell'età dell'oro queste divinità primordiali che poi col passaggio dell'oro all'età dall'argente quindi con la nascita del tempo della morte e della sessualità si retrocedono in uno stato nascosto di vita nella morte o nel sonno come Tulu noi possiamo pensare al Saturno romano che si nasconde nel Lazio oppure possiamo pensare al Cronos greco che dorme in questo stato di coma sull'isola di Ogigia o su altre isole come l'isola delle Speridi o queste altre isole al di fuori del tempo ecco la carcosa di Chambers e di Beers è un mondo temporale di questo tipo in cui il re in giallo come Cronos e come Cthulhu e come queste divinità del tempo primordiali anzi del tempo acronico cioè del tempo prima che esiste il tempo comunque queste divinità primordiali vivono tutti in questo stato di coma di vita nella morte il re in giallo di Chambers e di Beers che viene ripreso da spizzolato in True Detective non fa eccezione tra l'altro proprio per fare un minimo un minimo rapporto con la serie tv con la filosofia vera e propria della serie tv il mistero del tempo ritorna sempre come abbiamo detto tutti i personaggi appaiono come come se avessero questa maledizione cronica che ritornano sempre a distanza di anni sui propri errori sulle proprie dannazioni e quindi c'è questa immagine del tempo come fagocitatore come eterno divoratore della coscienza umana attraverso tutti i cicli anche questa è una una concezione esoterica che noi possiamo collegare anche alla teosofia di madame Blavatsky peraltro posso continuare o volete fare un intervento ma io credo vedo aspetta che apriamo i microfoni ecco qua c'era Matt che voleva dire qualcosa o forse anche Nick non lo so chi dei due Nick hai detto qualcosa? ma anche dopo bene allora ti chiudo allora se posso continuare ti chiedo di recuperare le immagini seguenti che ti avevo che ti avevo messo lì a disposizione questo ho fatto ecco queste sono esatto queste sono le fotografie che nella serie tv vengono trovate dai detective e che riguardano appunto queste vittime di bambini bambine che vengono uccisi dalla sette in questi rituali ora fai vedere queste tre immagini bravissimo queste sono tre foto qua vediamo che ha la corona cervina in testa perché appunto la vittima deve esibire delle caratteristiche simboliche che ricordino la divinità a cui viene sacrificata e ora se noi andiamo con la mente a un fatto reale che è venuto nel 1972 il cosiddetto ballo surrealista ecco qua queste sono delle immagini del ballo surrealista dei Rothschild che è avvenuto in una villa fuori Parigi nel 1972 organizzato anche da Dalì per dire e vediamo anche la foto dopo se vuoi far vedere ecco qua noi vediamo che c'è un simbolismo che viene richiamato per l'esibito detective perché sia le vittime sia la stessa rappresentazione del re in giallo manifestano queste caratteristiche appunto il suo morfe del tipo cervino e anche le altre maschere vediamo è bravissimo però fammi vedere ancora la foto prima questa maschera con Dalì con questa maschera a duplice faccia se vai avanti di due foto ci sono delle maschere in un altro film che tratta di questi argomenti diciamo così occulti e cospirazionisti eccolo qua che è Eyes Wide Shut vedete l'immagine al centro la maschera al centro e questa faccia divisa in due ora anche Eyes Wide Shut c'è questa scena del ballo mascherato a cui partecipano questi personaggi altolocati e anche poi ci sono sia delle orge sessuali che poi dei sacrifici perché una delle ragazze presenti al ballo viene poi sacrificata a quanto pare è importante far vedere che questo tema del ballo mascherato sia una situazione della festa surrealista di Dalì e dei Rothschild che abbiamo mostrato ma è anche importante sottolineare che la villa in cui si è svolta la festa surrealista nel 72 è la stessa villa in cui Polanski ha girato una scena di un altro film esoterico La Nonna Porta che è uscito anche lui nel 99 come Eyes Wide Shut quindi noi vediamo che in questi film che tra l'altro Polanski già aveva fatto Rosemary's Baby e qua potremmo parlare mezz'ora anche di questo per la connessione tra quello che succede nel film e poi quello che è successo alla sua donna che è stata appunto uccisa barbaramente Sharon Tate e il il cadavere del neonato gli è stato estromesso dal corpo con una violenza inaudita appunto a pochi mesi dopo che lui ha fatto Rosemary's Baby ha fatto uscire nelle sale Rosemary's Baby quindi sicuramente Polanski noi dobbiamo creare un filo rosso trovare un filo rosso tra vari autori di Hollywood e del cinema che hanno trattato questi argomenti esoterici Polanski sta di sicuro dentro e poi Kubrick che sia con Eyes Wide Shut come abbiamo visto ma anche con altri film precedenti come Shining e come Clockwork Orange Arancia Meccanica ci sono vari rimandi alle cosiddette programmi programmazione mentale quindi operazioni MK Ultra operazioni Monarch e sono delle operazioni che in qualche modo si connettono con True Detective perché quello che scusa scusa se ti interrompo giusto per spezzare perché altrimenti no era perché hai citato Polanski mi domandavo se tu hai mai visto un film poco conosciuto di Polanski ma che secondo me andrebbe proprio magari rivisto con attenzione l'inquilino del terzo piano chiaramente sì quello è uno dei più esoterici in cui ci sono molti rimandi anche all'antico Egitto vediamo che in tutte le case in cui Polanski perché Polanski è proprio l'attore principale di questo film entro in queste tutte case di gente diversa e ci sono sempre questi rimandi alla sopravvivenza dell'anima dopo la morte per gli antichi egizi quindi mummie oppure sfingi oppure libri sulla vita dopo la morte il libro dei morti egiziano che abbiamo già citato e poi anche l'immagine di Polanski alla fine del film tutto avvolto nelle bende un'altra citazione a questi argomenti a questi argomenti occulti diciamo senza poi nominare il fatto che come Rosemary's Baby il protagonista che in questo caso è proprio Polanski si trova in mezzo a una vera e propria cospirazione orrita da tutti i suoi compagni di appartamento che poi per farle in due parole riusciranno a fare entrare nel suo corpo l'anima di Simon Shul che era l'inquilina precedente e quindi qui si parla di questa sopravvivenza dell'anima alla morte fisica e quest'anima può essere in qualche modo messa dentro un altro corpo anche questa è una una delle tematiche che emerge dal racconto di Ambrose Pierce che abbiamo citato c'è un cittadino di Carcosa in cui poi alla fine del racconto si scoprirà che il narratore la voce narrante in realtà è già morto ed è riuscito ad accedere a questa dimensione temporale di Carcosa in cui ha trovato poi la sua lapide considera la sua data di morte quindi noi vediamo che ci sono dei collegamenti delle correlazioni sia tra questi romanzi e racconti dell'epoca del fantastico di fine ottocento inizio novecento sia col cinema hollywoodiano con le serie tv ma anche con la realtà diciamo così poco conosciuta realtà alternativa come abbiamo detto il Bohemian Grove oppure abbiamo detto il ballo surrealista dei Rothschild da settantadue però ritornando al Bohemian Grove noi possiamo far vedere ritornando con le immagini appunto di prima che lascio pure questa che va bene le immagini che noi abbiamo visto prima del Bohemian Grove sono mostrano i partecipanti ai rituali che sono grossomodo vestiti in maniera carnevalesca questa è una foto del Mardi Gras del Mardi Gras di New Orleans dei primi del novecento e vediamo che nella serie tv True Detective viene detto che la sette della palude si ispira per i propri rituali sia al Mardi Gras cioè alle feste carnevalesche che sono state importate dai coloni francesi nelle colonie americane sia dai rituali Udu cioè l'unione tra i rituali Vudù degli schiavi negri questa è una foto di True Detective che viene fatta vedere di sfuggita appesa a un muro a casa di una delle famiglie che è stata interessata da queste scomparse di bambini questa bambina al centro del quadro di questa foto è attornata da questi personaggi con questo cappuccio nero che sembrano usciti da queste rappresentazioni carnevalesche del Mardi Gras ed è importante anche che in True Detective si nomina oltre al Mardi Gras e ai rituali Vudù che abbiamo nominato anche i saturnali viene detto esplicitamente che queste feste ricordano quelle dei saturnali romani e quindi noi ritorniamo qui con quanto abbiamo detto di Saturno e degli dei saturnini sia però alla dimensione rituale dei saturnali che inizialmente prevedevano pari anche dei sacrifici umani che sono stati poi annullati e sostituiti dall'omicidio fittizio diciamo così rituale di vimini antropomorfi che noi peraltro li troviamo in un'altra serie di tv italiana che è Voci notturne di Pupiavati quindi noi vediamo che i saturnali ritornano sia in True Detective sia anche in Voci notturne quando si dice che il ponte da cui questi rituali questi sacrifici umani venivano fatti è stato poi usato per fare delle commemorazioni rituali in cui anziché a sacrificare delle persone venivano sacrificati ritualmente questi pupazzi di vimini in True Detective il vimini ritorna anche in quelle che vengono chiamate le trappole del diavolo cioè quelle che ricordano le strene dell'antica Roma sono dei legnetti uniti tra di essi con degli spaghi che vengono trovati nei ruoghi in cui sono trovati i cadaveri oppure nei luoghi dove è passata la sette della palude dove è stato invocato il re in giallo e quindi qua vediamo sia delle citazioni storiche alle feste del voodoo abbiamo detto del Mardi Gras ma anche più antiche si va anche fino ai rituali dell'antica Roma e poi ai rituali più che altro dell'Europa celtica perché nel libro noi colleghiamo la figura del re in giallo con questo palco di corna e questo mistero del tempo alla divinità celtica Cernunno che non è solo un pan celtico non è solo la divinità del sesso estremo del sesso violento eccetera ma è anche una divinità dei cicli naturali e dei cicli cosmici no? e quindi dice Cernunno che noi qua grazie a Marco Sabatani che è l'illustratore questa magnifica illustrazione ha fatto ha rappresentato il re in giallo con le stelle nere di Carcosa i simboli di Cernunno che sono il torques cioè l'uroboro di Cernunno